Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi torno a grande richiesta con un caso straniero e per l'occasione vi parlo di un serial davvero fuori di testa, totalmente. Quindi partiamo immediatamente. Gary Michael Heidnik nasce nel 1943 a Eastlake, un subborgo di Cleveland in Ohio. Quando a soltanto due anni i suoi genitori, Michael ed Ellen, decidono di divorziare, perché Ellen accusa Michael di gravi negligenze nei suoi confronti. Inizialmente Gary e suo fratello minorette arrivano a vivere con la madre, ma lei attraversa una crisi e inizia a bere pesantemente, cadendo nella rete dell'alcolismo. Si sposa poi con un altro uomo. Con l'arrivo dell'età scolastica i due fratelli si trasferiscono a casa del padre, che di mestiere fa il fabbro, e della sua nuova compagna, la quale però non ama i bambini. Infatti Gary e suo fratello passano la maggior parte del tempo a litigare con lei. D'altra parte anche Michael non sembra affettuoso con i figli, è più propenso a imporgli la disciplina con estrema rigidità. Gary subisce continue umiliazioni da parte sua, ad esempio ogni volta che gli scappa la pipì a letto, suo padre non esita a infliggergli una punizione, cioè appende il pigiama e le lenzuola ancora sporche sullo stendino, in bella vista, in modo che tutti i vicini lo vedano. Questi accadimenti e altri episodi simili insinuano in Gary un profondo senso di vergogna e inadeguatezza. Inoltre il bambino sviluppa un rancore crescente nei confronti del padre. Anche a scuola le cose non vanno meglio per Gary, gli altri bambini lo prendono continuamente in giro perché è molto timido, così per la maggior parte del tempo Gary si rifugia in un mondo tutto suo ideato dalla fantasia. Viene pure soprannominato testa d'uovo a causa della forma leggermente ovale del suo cranio, infatti da piccolo Gary era caduto giù da un albero sul quale si era arrampicato e aveva sbattuto la testa con violenza. Dopo questo episodio si era verificato un cambiamento improvviso della sua personalità. Inoltre il bambino aveva cominciato a soffrire di disturbi dell'eloquio e forti emicranie. Tra le cose a cui Gary è interessato c'è l'alta finanza, ne è affascinato fin da bambino, tanto che legge le pagine economiche dei giornali e sogna di diventare milionario. Con il passare degli anni cresce l'odio nutrito verso i suoi genitori perché secondo lui sono responsabili di avergli fatto trascorrere un'infanzia solitaria e priva di amore. Nel 1961, a 18 anni, grazie all'incoraggiamento del padre, Gary abbandona la scuola superiore e si arruola nell'esercito degli Stati Uniti. Nel 1962, quando tutto sembra andare per il meglio, per Gary sopraggiungono dei gravi problemi di salute che gli impediscono di essere assegnato a una base militare nella Germania Ovest, come invece era previsto. Una mattina il giovane soldato si presenta in infermeria lamentando problemi alla vista, nausea e capogiri. Il neurologo che lo visita non ha dubbi. Gary è malato di gastroenterite, eppure evidenzia anche sintomi compatibili con una malattia mentale. Il medico gli prescrive delle dosi massicce di tranquillante che solitamente viene utilizzato per curare i pazienti gravemente affetti da psicosi, in particolare quelli che soffrono di allucinazioni. La diagnosi individua un disturbo schizzoide della personalità. Nel giro di tre mesi, Gary ottiene il congedo e, in altri tre mesi, consegue la pensione per un'invalidità del 100%. Dopo aver lasciato l'esercito, il giovane comincia a frequentare dei corsi di infermieristica a Philadelphia, in Pennsylvania, ultimandoli l'anno successivo. Subito dopo, Gary subisce altri ricoveri frequenti, in diversi ospedali psichiatrici, ma i trattamenti a cui è sottoposto determinano ben pochi progressi. Gary sostiene di non sapere quale sia veramente la malattia di cui soffre. Nel 1965, completata la preparazione accademica, Gary ottiene il diploma di infermiere. È il 1967. Nell'arco di un paio d'anni, Gary è riuscito a mettere da parte abbastanza soldi per potersi comprare una casa a tre piani. Uno lo occupa, mentre gli altri due li affetta. Nello stesso periodo inizia a bazzicare attorno a un istituto di disabilità intellettiva e intreccia relazioni occasionali con alcune pazienti afroamericane e ispaniche. Le porta al cinema, a fare shopping e poi a casa sua, dove consumano rapporti intimi. Nel 1970, il suo figlio della madre mina profondamente l'equilibrio mentale di Gary, già fragile e compromesso. Dopo l'evento, anche lui prova a togliersi la vita diverse volte e finisce di nuovo ricoverato per diversi giorni. Suo padre, intanto, lo tiene a distanza, non gli permette di tornare a far parte della sua vita e, dopo la morte della ex moglie, rompe ogni rapporto col figlio. Gary a questo punto si butta capofitto sulle sostanze, spesso assume quell'allucinogene. Dopo aver aggredito un altro psicopatico con manie di suicidio, viene definitivamente internato per un anno. Nel manicomio il suo comportamento si rivela alquanto bizzarro. Gary non dialoga con nessuno e comunica soltanto tramite delle note scritte a mano. Inoltre indossa perennemente degli eccentrici vestiti di cuoio. Nel 1971 può finalmente uscire dal manicomio e sceglie di trascorrere una vacanza in California. Proprio durante il viaggio, Gary è colto da un'illuminazione assurda, fondare una propria chiesa. Tornato a Filadelfia, Gary Heidnik fonda la Chiesa Unita dei Ministri di Dio, della quale si autoproclama Vescovo. La sua parrocchia non vanta molti seguaci, contando anche suo fratello e un'amica affetta da disabilità intellettiva. Il totale è di 5 adepti. Pur di assortire il numero di fedeli, Gary finisce col reclutare diverse persone che vivono rubando automobili. Continua ad avere rapporti intimi con donne afroamericane, ma profetizza un'imminente guerra razziale fra bianchi e neri degli Stati Uniti. Nel 1976 compie un gesto ancora più avventato, si barrica nella cantina di casa armato di fucile e pistola e sfida i suoi affettuari ad andare a lamentarsi da lui di persona, scendendo in cantina e affrontandolo. Ebbene, ne ferisce uno e quindi viene incriminato per aggressione. Tuttavia, successivamente le accuse vengono ritirate e Gary torna libero. Dopo aver venduto la casa nel 1977, Gary Heidnik investe il suo vitalizio in borsa e arriva a guadagnare oltre mezzo milione di dollari con diverse speculazioni. Spende parte dei suoi soldi comprando varie automobili lussuose e un camper completamente arredato. Inoltre, evita di pagare le tasse in qualità di vescovo di una chiesa, diciamocelo, in realtà inesistente. Nonostante sia diventato un uomo ricco, Gary finisce tra le frequentazioni abituali della polizia. Viene arrestato per risse per possesso illecito di una pistola. Nei mesi successivi le condanne si moltiplicano aggressione armata, truffa e violenza. Quanto alla sua vita sentimentale, Gary convive con una donna analfabeta e affetta da disabilità intellettiva, che è rimasta incinta. Appena partorisce la bambina, la donna la affide in adozione senza dire nulla a Gary. Poi, ecco che incombe su di lui la denuncia più grave. Dopo aver firmato per la liberazione dal manicomio della sorella della sua fidanzata, intrantiene rapporti intimi con entrambe. In realtà la donna viene tenuta prigioniera nel suo appartamento per 48 ore, nascosta in cantina. Il rapimento però viene denunciato e durante una perquisizione della casa la polizia la trova rinchiusa. Lì, in pessimo stato, aveva subito violenze intime a lungo ed era affetta da gonorrea in bocca e nelle parti intime. Così Gary viene arrestato immediatamente. L'accusa per lui è molto grave. Rapimento, violenza intima e imprigionamento di una persona presa in custodia. Il processo si trascina fino a novembre del 1978, quando la corte lo condanna a sette anni di prigione, convertiti in tre anni di manicomio nel processo d'appello. Nel 1978 Gary dunque viene posto sotto osservazione psichiatrica e sconta quattro anni in un istituto per pazienti con disturbi mentali, a fronte del rapimento commesso e degli altri reati emersi. Durante gli anni di reclusione compie tre tentativi di suicidio. Arriviamo al 12 aprile del 1983, quando Gary viene rilasciato. Poco dopo la scarcerazione compra una nuova casa, sempre a Philadelphia, nel blocco 3500 di Marshall Street. e appena davanti all'ingresso l'insegna della sua chiesa. Continua a fare colpo sulle donne, apprezza soprattutto quelle afroamericane, meglio ancora si affette da qualche problema mentale. Sogna di mettere al mondo un bambino con ognuna di loro. Tuttavia le relazioni vanno male e ne resta deluso. Ma non demorde, si affida un'agenzia matrimoniale alla quale richiede una vergine nata in Oriente. Dopo poche settimane è già in contatto con una ragazza filippina di nome Betty. Per un paio d'anni i due comunicano soltanto attraverso corrispondenze epistolare, intervallata da qualche telefonata sporadica, ma nel settembre del 1985 Gary la convince a sposare. Durante la prima settimana di matrimonio lui la tratta come una regina, concedendole particolari attenzioni e progettando insieme di creare una famiglia numerosa. Purtroppo la realtà in cui Betty è stata introdotta a credere si rivela presto un'illusione. Una mattina di fine ottobre nel rientrare a casa sorprende il marito a letto con tre donne. La giovane prova a reagire, pretende il divorzio e un risarcimento d'anni, ma Gary riesce a soggiogarla convincendola che lui, in quanto capo religioso, ha pieno diritto a intrattenere rapporti intimi con più donne, anche nello stesso momento. Per i mesi successivi Betty è costretta a osservare il marito mentre va a letto con altre donne e se lei osa ramentarsi lui la colpisce più volte e con qualsiasi cosa abbia per le mani. Inoltre la obbliga addirittura a cucinare per le ospiti. Con il passare del tempo Gary diventa sempre più violento e rivolge alla moglie delle vere e proprie minacce di morte. Un giorno come tanti, nei primi mesi del 1986, dopo aver subito violenza intima come punizione, Betty decide finalmente di ribellarsi e si fa aiutare dalla comunità filippina a organizzare un finto rapimento. Parisce quattro giorni dopo, mentre sta facendo la spesa. Trascorse due settimane Gary è destinatario di una denuncia anonima, che però proviene chiaramente da Betty e che lo mette nei guai in quanto è ritenuto responsabile di aggressione, violenza intima e molestie. Purtroppo Betty non si presenta al processo come unica testimone e l'accusa cade nel vuoto. Fallito anche quest'ultimo rapporto, nella mente di Gary germoglia un'idea del tutto folle, quella di creare una fabbrica di bambini in cantina. L'unico modo per ottenere quella famiglia numerosa che tanto desidera. Da questo momento il comportamento di Gary diventa sempre più stravagante. Una delle sue principali manie è quella di tappezzare le pareti della sua camera da letto con banconate da 5 e 10 dollari. Di nuovo in circolazione sul campo amoroso, il 26 novembre 1986, Gary avvicina una passeggiatrice filippina, Giusefina Rivera, la quale non potrà mai dimenticare quel giorno. Arrabbiata dopo un litigio con il proprio ragazzo, la 25enne lascia il loro appartamento collocato in una zona malfamata a nord di Filadelfia e sceglie di lavorare in strada come passeggiatrice. Al momento le interessa soltanto guadagnare i soldi che bastano per organizzare la cena del ringraziamento alla sua famiglia. Così sfida la pioggia e il freddo pungente, cammina avanti e indietro guardando ansiosa ogni macchina che passa. Con la temperatura in calo, Giusefina è quasi convinta di interrompere la ricerca di clienti per la notte, quando un'automobile le passa accanto lentamente e si ferma. Il finestrino del guidatore si abbassa, Giusefina si avvicina e si imbatte in un uomo con la barba che le propone di stare con lui. Dopo una breve discussione sul prezzo, Giusefina accetta di salire in macchina. L'uomo si presenta come Gary e parcheggia vicino a un McDonald's. Giusefina lo segue mentre lui ordina un caffè e si accomoda. La donna lo osserva mentre beve. È un uomo bianco, ha il viso incorniciato da una barba curata e occhi freddi, azzurri e penetranti. Nonostante indossi un orologio, dei gioielli costosi e guidi un'automobile di lusso, ossia una Cadillac, i suoi vestiti sono sporchi e malmessi. Gary con una scusa porta Giusefina a casa sua. Mentre entra in quel garage faticente, la ragazza nota un'altra macchina parcheggiata, una Rolls Royce del 1971. Sebbene quel tipo sia un uomo trasandato e che vive in un quartiere squalido, ha sicuramente buon gusto infatti gli automobili, pensa Giusefina. A quel punto Giusefina e Gary entrano in casa dalla porta che dà accesso alla cucina. Gary guida la ragazza in salotto, i cui mobili sono vecchi e scarni. Gli unici oggetti che appaiono in condizioni discrete sono un televisore, un videoregistratore e un registratore a cassette. L'uomo si offre di mostrarle un film, ma quando lei rifiuta la conduce al piano superiore attraverso una stretta scala per andare in camera da letto. Quando raggiunge il piano di sopra, Giusefina si trova davanti a un corridoio, parzialmente rivestito da banconote da 1,5 dollari. Gary si affretta ad entrare in camera sua, un altro ambiente dove le banconote sono appese al muro. Si toglie i vestiti, dà Giusefina 20 dollari e i due stanno insieme. Dopo il rapporto la ragazza comincia a rivestirsi, magari l'aggredisce e prova a soffocarla con le mani. Ormai ridotta al limite, Giusefina lo prega di smettere. Gli dice che è pronta a fare qualsiasi cosa per lui. Allora Gary allenta la presa sul collo, le blocca le braccia e le attacca un paio di manette ai polsi. Poi la spinge davanti a sé e la guida giù per le scale fino alla cucina, dove c'è un'altra porta che conduce a un semi-interrato. La stanza chiaramente è fredda e umida e Giusefina, vestita soltanto con una camicetta, inizia a tremare irrefrenabilmente. Quando si lamenta Gary le ordina di stare zitta e la minaccia, se non obbedisce la colpirà con un pezzo di legno. Giusefina non ha altra scelta, deve calmarsi. Così Gary la trascina su un materasso sporco e le ammanetta anche le caviglie. Le dice di mettersi a sedere, appoggia la testa sulle sue gambe e si addormenta. Anche Giusefina prima o poi crolla e quando si risveglia si rende conto di essere sola. Da una piccola finestra sbarrata, filtra della luce diurna che le consente di vedere ciò che la circonda. Il semi-interrato è piccolo, ha il pavimento e le pareti di cemento. A parte il materasso, gli unici oggetti presenti nella stanza sono un congelatore, una lava asciuga e un logoro tavolo da biliardo. Al centro della stanza è stata rimossa una piccola area di cemento ed è stata scavata una fossa poco profonda nel terreno sottostante. Giusefina non può fare a meno di chiedersi se finirà dentro quel buco. Intanto ha molta fame e si rende conto che quello è il giorno del ringraziamento. Poco tempo dopo Gary riappare e le offre un panino con le uova e un bicchiere di succo. Giusefina sta per sfamarsi. Quando viene colta da una paura, quel cibo potrebbe contenere delle sostanze usate per stordirla o ancora peggio per avvelenarla. Combattendo con i morsi della fame quindi lo rifiuta. Gary di certo non si offende, porta via il cibo preparato per la sua vittima e ritorna in cantina con degli attrezzi che gli servono ad allargare e rendere più profondo il buco. Mentre Gary procede con il suo lavoro racconta a Giusefina che tutto ciò che ha sempre desiderato è una famiglia numerosa. Aveva già avuto dei figli da donne separate ma aveva perso i contatti con loro. Rivela che il suo piano è quello di catturare dieci donne e ingravidarle tutte. Giusefina intanto tace e lo ascolta. Quando Gary termina il lavoro le si avvicina, esercita violenza su di lei e poi torna al piano di sopra. Rimasta sola una seconda volta Giusefina sfrutta quella catena abbastanza lunga per arrampicarsi alla finestra ma non riesce proprio a rimuovere le assi e scappare. Allora inizia a urlare sperando che un vicino di casa o un passante senta le sue grida e la soccorra. Però purtroppo in quel quartiere parecchio malfamato la violenza domestica è all'ordine del giorno. I vicini di casa sono abituati a sentire delle urla ormai neanche ci si soffermano. L'unica persona che fa caso alle grida di Giusefina è proprio il suo rapitore, Gary. L'uomo scende nel seminterrato, la picchia con un bastone finché lei non si calma, poi la spinge dentro quel buco nel pavimento coprendola con un pezzo di compensato e ponendovi sopra dei pesi in modo che Giusefina non possa uscire da sola. Poi per assicurarsi che le sue urla non attirino attenzioni all'esterno piazza una radio nel seminterrato e la sintonizza su una stazione che trasmette musica hard rock al massimo volume. Giusefina rimane di nuovo sola mentre giace rannicchiata nella terra gelida. Fatica a respirare e grazie ai notiziari radiofonici riesce a tenere il controllo delle ore che passano. Si chiede quando Gary farà ritorno, d'altronde è l'unica persona con cui può parlare. Ben 27 ore dopo Gary sopraggiunge, ma non è solo. Dall'interno della fossa, nonostante la radio ancora accesa, Giusefina sente chiaramente una donna che si lamenta e il rumore di una catena che si trascina sul pavimento. Poco tempo dopo il cuore di Giusefina ha un sussulto quando il pezzo di compensato viene sollevato e Gary la trascina fuori dal buco. Incapace di reggersi bene in piedi a causa dei forti crampi, Giusefina alza lo sguardo e vede una giovane donna afroamericana incatenata al tubo del soffitto. Anche lei è seminuda. Indossa soltanto una camicetta e sembra spaesata, ignara di ciò che le sta accadendo. Gary la presenta come Sandy, prima di lasciarle sole. Quando Sandy inizia a parlare, Giusefina comprende perché la nuova arrivata le era apparsa così distaccata, pur essendo vittima di un rapimento e affetta da disabilità intellettiva. Sandy rivela a Giusefina che il suo vero nome è Sandra Linsday e che è un'amica di Gary. Si erano incontrati in un istituto locale per disabili mentali e fisici. La ragazza spiega di aver avuto rapporti con Gary e un altro suo amico, racconta che era rimasta incinta ma aveva abortito perché diventare madre la spaventava. Quando Gary lo aveva scoperto era andato su tutte le furie, le aveva detto che era malvagia e le aveva offerto mille dollari per portare avanti la gravidanza così da crescere il suo bambino. Il punto è che, come detto, Sandy aveva già provveduto ad abortire. Gary, ad irato, l'ha imprigionata nel seminterrato con Giusefina. Sandy, ripercorrendo gli eventi, scoppia in un pianto disperato. Così Giusefina, per distrarla, le racconta la sua situazione a 25 anni, a tre figli che però non vivono con lei e fa la passeggiatrice da quando era adolescente. Un'ora dopo, Gary torna nel seminterrato con la cena che consiste in un paio di cracker e una bottiglietta d'acqua. Poi sparisce di nuovo, suggerendo a Sandy e a Giusefina di socializzare. Due ore dopo, riappare e riprende il suo lavoro per allargare la fossa. Poi smette e obbliga entrambe ad avere rapporti intimi con lui. Infine se ne va. La mattina seguente, Gary sembra di buon umore. Ha portato alle due ragazze del porridge per colazione. Poco dopo, tutti sentono che qualcuno sta bussando alla porta. Gary sale al pieno di sopra e scorge la sorella di Sandy e due cugini che la stanno cercando. Ben presto i familiari della ragazza sequestrata se ne vanno, convinti che in casa non ci sia nessuno. Così Gary costringe Sandy a scrivere un biglietto a sua madre per tranquillizzarla. Deve raccontare che si era allontanata volontariamente ma che presto l'avrebbe chiamata. Il rapitore, quindi Gary, comunica alle ragazze che avrebbe spedito quel biglietto da New York. Così la madre di Sandy avrebbe pensato che la figlia si trovasse lì. Sandy non sembra capire lo scopo di quel biglietto. Ma Giusefina inizia a supporre le reali intenzioni di Gary. Tenerle prigioniere per tanto tempo. Infatti i giorni passano e diventano settimane. Il comportamento di Gary è sempre più crudele. Porta le ragazze da mangiare sporadicamente, non dà loro dei vestiti per mantenersi al caldo perché così riesce ad abusarle più velocemente. Quando Gary non c'è le due ragazze si rannicchiano per scaldarsi aspettando il suo ritorno terrorizzate. A volte provano a chiedere aiuto ma Gary le punisce, le picchia, diventa ancora più violento e le segrega nel buco al centro del seminterrato. Oppure, ancora peggio, le appende per le braccia una trave sopraelevata e le lascia sospese per ore e ore. Intanto la madre di Sandra la sta cercando. A una settimana dalla sua sparizione sporge denuncia alla polizia dicendo a un agente che è convinta che sua figlia si sia trattenuta contro la sua volontà da un tizio di nome Gary. La donna conosce soltanto il suo nome ma non sa dove viva esattamente. Comunica comunque un indirizzo all'ufficiale e fornisce un numero di telefono da cui però non si ottiene risposta. L'ufficiale allora si reca alla casa indicata dalla donna ma nessuno gli apre la porta. Qualche giorno dopo la donna porta in centrale il biglietto che Sandy aveva scritto obbligata da Gary. C'è anche una cartolina di Natale con allegati 5 dollari. L'ufficiale di polizia sospetta che Sandy sia semplicemente scappata. Tuttavia non si arrende e si mette in cerca di un amico di Gary, un uomo di nome Tony Brown. Lo trova in un McDonald's a West Philadelphia, un locale che Sandy era solita frequentare in realtà. L'ufficiale quindi chiede a Tony se per caso sappia dove si trova Sandra. Tony risponde di no. Allora l'ufficiale gli chiede quale sia il cognome di questo Gary. Tony lo scrive su un foglietto ma lo riporta in modo errato così l'ufficiale inizia a indagare sull'uomo sbagliato finendo con l'abbandonare l'indagine chiaramente. A questo punto mancano tre giorni al Natale del 1986 e come molti abitanti di Philadelphia Gary è in giro. Ma non è in cerca di regali, bensì è ansioso di espandere il suo harem. Vaga per le strade alla ricerca di un'altra vittima e, ahimè, la trova ben presto. Lisa Thomas ha 19 anni e sta andando a casa di un'amica quando Gary accosta la macchina accanto a lei. Si sporge dal finestrino e le chiede quanto voglia per le sue prestazioni. La ragazza, in risposta, si infuria. Non è una passeggiatrice. Gary quindi a questo punto si scusa immediatamente e le offre un passaggio che Lisa accetta. Gli spiega che deve andare dietro l'angolo, lui l'accompagna, poi l'aspetta pazientemente in macchina. Quando la ragazza torna, Gary le propone di andare a mangiare da qualche parte e Lisa accetta nuovamente. Mentre su una tavola, Gary le chiede di andare con lui ad Atlantic City il giorno seguente, ma Lisa gli dice di non avere niente di adatto da indossare. Gary allora apre il portafoglio, tira fuori una banconota da 50 dollari e l'accompagna in un negozio di vestiti. Quando terminano lo shopping, Gary la porta a casa sua, le offre un bicchiere di vino e accende la televisione. Lisa si addormenta sul divano, ma qualche ora dopo, quando si sveglia, si rende conto di non avere più i vestiti addosso. Gary la trascina nella sua camera da letto e la costringe ad avere un rapporto con lui. Lisa prova comunque a rivestirsi e gli chiede di riportarla a casa, ma Gary, senza dire una parola, la ferra per la gola e tenta di soffocarla, poi la manetta e la porta nel seminterrato, dicendole che l'avrebbe presentata a due sue amiche. Una volta nel seminterrato, Gary rimuove il pezzo di compensato dal buco, sollevandolo e facendo riemergere Giusefina e Sandy. Poi prepara dei panini per le tre ragazze, abusa di nuovo di Lisa, infine la incatena e se ne va. Le ragazze, parlando tra loro, si rendono conto di avere soltanto due cose in comune. A parte l'essere trattenute contro la propria volontà da un uomo molto pericoloso, tutte e tre hanno la pelle scura. Circa dieci giorni dopo, Gary torna a casa con un'altra donna afroamericana, la 23enne Deborah Dudley, che non ha intenzione di permettergli di controllarla e prova a combattere. Da quando lui la incatena con le altre, lei comincia a mettere in dubbio la sua autorità, in ogni occasione, e Gary reagisce mettendole le mani addosso. L'arrivo di Deborah innesca quindi una certa tensione. Lei disobbedisce spesso, ma Gary si scaglia anche contro Giusefina e Sandy. Poi il rapitore sceglie di cambiare tattica. Quando esce di casa, nomina una delle prigioniere come responsabile affinché tenga d'occhio la situazione e al suo rientro, si aspetta che lei gli riferisca a chi si è comportata male. Diventa quindi compito della responsabile picchiare colei che ha disobbedito. Se invece la responsabile comunica che ognuna di loro si è comportata bene, ci pensa comunque Gary a picchiarle tutte. Durante questo periodo Giusefina inizia a conquistarsi la fiducia di Gary, mostrando lealtà e obbedienza. Gary quindi si convince che lei sia felice di stare con lui, di far parte del suo harem. Tuttavia Gary non diventa mai magnanimo, anzi non si limita più a fare violenza sulle ragazze, ma le obbliga anche ad avere rapporti tra di loro. Col tempo inizia a portare loro delle salviette per neonati affinché possano provvedere un minimo all'igiene personale. Passato un po' di tempo concede alle vittime di fare un bagno ogni tanto, a patto che dopo abbiano un rapporto intimo tutti insieme. La quantità di cibo che Gary porta alle sue prigioniere sembra cambiare a seconda del suo umore. Alcuni giorni da loro soltanto pane e acqua, altre volte da loro un hot dog stantio che devono dividersi. Ma alla fine risolve questo problema davvero stressante dando alle ragazze del cibo per cani. Da prima, ovviamente, tutte si rifiutano di mangiarlo, ma Gary le convince a suon di botte. Il 18 gennaio 1987 Gary torna a casa con un'altra ragazza afroamericana. Si chiama Jacqueline Haskins. È una passeggiatrice diciottenne. Come già accaduto con le altre ragazze, la porta in camera sua e la costringe ad avere un rapporto con lui. Poi la trascina nel seminterrato e la incatena. Più tardi, quello stesso giorno, compra tutte del cibo cinese e una bottiglia di champagne. Di conseguenza, le ragazze si interrogano su questo gesto di Gary ben poco ordinario. Beh, la risposta è semplice. È il ventiseiesimo compleanno della prigioniera che sta diventando rapidamente la sua preferita, Giusefina. Inoltre, Gary è di buon umore perché pensa che sia lei che Sandra siano in dolce attesa. All'inizio del febbraio 1987, però, Gary si accanisce proprio contro Sandra trovando un motivo per punirla. La sorprende mentre cerca di spostare il compensato che copre la fossa. Allora la pende a una trave del soffitto con una sola manetta per diversi giorni. Durante questo periodo le sue condizioni peggiorano e lei si rifiuta di mangiare. Credendo che sia incinta, Gary l'alimenta con la forza. Verso la fine della settimana, anche se Sandra vomita e ha la febbre alta, Gary continua a nutrirla in modo coatto, spesso infilandole il cibo in bocca e tenendogliela chiusa finché non deglutisce. E ricordiamo che si tratta di cibo per cani. Il giorno dopo, Sandra perde conoscenza. Quando Gary se ne accorge, prova a farla rinvenire, ma non ci riesce. E si arrabbia. Apre le manette e la fa precipitare a terra. Dice alle altre vittime che Sandra finge soltanto di essere svenuta, così la prende a calci, la rigetta nella fossa e se ne va. Quando torna, risolleva Sandra dal buco e le controlla il polso. Allora si rende conto di averla uccisa. Sandra è morta. Gary dice alle altre prigioniere che probabilmente è soffocata. Porta il suo corpo al piano di sopra e le ragazze sentono distintamente che ha acceso una seghe elettrica. Gary macina il corpo di Sandra usando un robot da cucina. Poi la cuoce e la mischia con il cibo per cani. Nei giorni successivi alla sua morte, un fettore nauseabondo riempie l'intera casa. Le ragazze riescono a sentirlo. Quell'odore disturba anche i vicini, che quindi chiamano la polizia. Devono ricontattarla diverse volte prima che una pattuglia si degni di presentarsi a casa di Gary. La gente che busta alla sua porta gli spiega la situazione ma Gary riesce a convincerlo che quell'odore provenga da alcuni pezzi di carne andati a male di cui si sarebbe liberato molto presto. Dopo la morte di Sandy il comportamento di Gary diventa sempre più sadico e le sue vittime scogitano un piano per attaccarlo e fuggire. Un piano che non potrà mai essere attuato. Questo perché Giusefina, la sua ragazza preferita, durante uno dei momenti in cui viene liberata e si trattiene con Gary al piano di sopra, gli riferisce ciò che le altre prigioniere hanno in mente. Gary, ora convinto che le ragazze stanno complottando contro di lui, è scogito a un piano per impedire che scappino. Dopo averle imbavagliate, ammanettate e appese a una trave, afferra dei cacciaviti di varie misure e scava nelle loro orecchie nel tentativo di renderle sorde. Così non avrebbero più sentito i suoi movimenti, compreso quando si accingeva a scendere nel sementerrato. L'unica che viene risparmiata è ovviamente Giusefina. Nei giorni seguenti Deborah ricomincia a dare problemi, così Gary la slega e la conduce al piano di sopra. Quando la riporta nel sementerrato, la ragazza si è apparentemente calmata. Ma una volta che Gary se n'è andato, Deborah racconta, balbettando dal terrore, che l'ha portata in cucina e le ha mostrato una pentola adagiata sul fornello con all'interno la testa di Sandy. Poi ha aperto il forno e le ha mostrato una parte della gabbia toracica della povera vittima che stava arrostendo. Infine, aprendo il frigorifero, ha indicato un braccio e altre parti del corpo di Sandy avvolte nella plastica. Gary ha minacciato Deborah, dicendole che, se voleva evitare di fare la stessa fine di Sandy, avrebbe dovuto obbedirgli sempre. Però la verità è che Deborah non demorde e nel giro di pochi giorni torna a rispondergli in modo indisponente, dicendo a Gary che il suo unico modo per avere una donna è rinchiuderla. Gary, per riuscire a indurla davvero a obbedirlo, aggiunge una nuova punizione alle torture già praticate, ossia le scosse elettriche. Il suo metodo è semplice. Taglia la spina da un'estremità di una prolunga e inserisce l'altra estremità in una presa della corrente elettrica. Poi poggia l'estremità con i fili scoperti sulle catene che imprigionano le ragazze e le guarda con feroce divertimento mentre si contorcono per sfuggire alla scossa. Anche in questo caso a Giusefina viene risparmiata la tortura. Col passare del tempo, Giusefina per Gary diventa sempre di più una sorta di compagna piuttosto che una prigioniera. Oltre a trascorrere maggior tempo con lei al pieno di sopra da solo, lui pretende anche la sua complicità. Tanto che il 18 marzo, quando Gary decide di punire ancora le ragazze con la scossa elettrica, chiede aiuto a Giusefina. Dopo aver praticato dei fori nel compensato, Gary ordina a Giusefina di riempire d'acqua la fossa. Lisa, Jacqueline e Deborah ancora in catene vengono spinte dentro la buca che Gary, come al solito, copre con il compensato appesantendolo con dei sacchi di terra. Mentre sono sedute nella fossa, il filo scoperto viene spinto giù attraverso uno dei fori praticati nel compensato e provoca una scossa elettrica che investe tutte le ragazze. Subito dopo, Gary ripete l'operazione, introduce di nuovo il filo in un foro del compensato, questa volta facendo sì che tocchi soltanto la catena di Deborah. La ragazza urla e rabbrividisce, trema in modo incontrollabile prima di crollare a faccia in giù, nell'acqua. Sembra abbia perso conoscenza. Jacqueline e Lisa allora cominciano a strillare così Gary è costretto a rimuovere il pezzo di compensato per tirare fuori Deborah dalla fossa. Dopo essersi accertato che sia morta, Gary osserva le altre vittime con calma e dice loro beh, non siete contente che non sia caduto a una di voi? Si allontana per poi tornare qualche minuto dopo con carta e penna. Porge il tutto a Giusefina e la obbliga a scrivere nel dettaglio come lo ha aiutato a fulminare Deborah. Le ordina anche di firmare la confessione e poi la sottoscrive pure lui. Sventolando la lettera, avverte Giusefina dicendo se mai andrai dalla polizia userò questa come prova del fatto che a uccidere Deborah sei stata anche tu. Soddisfatto di averla completamente sottomessa al suo controllo, Gary libera Giusefina dalle catene e le ordina di andare al piano di sopra a cambiarsi. Giusefina, per la prima volta in quattro mesi, può vestirsi. Il giorno dopo Gary torna nel seminterrato, avvolge il corpo di Deborah nella plastica, lo infila nel congelatore e se ne va nuovamente. Dopo la morte di Deborah, Giusefina in qualità di compagna di Gary esce con lui molto spesso. I due vanno anche a mangiare fuori e durante una di queste uscite Gary afferma che se mai fosse stato catturato si sarebbe comportato da pazzo. Gary non se ne rende conto ma è già pazzo. È un pazzo furioso. In ogni caso, spiega al Giusefina che aveva ingannato le autorità per anni in modo da poter beneficiare dei pagamenti percepiti per l'invalidità. Sembra però che la morte di Deborah abbia ammorbidito Gary che nei confronti delle altre prigioniere infatti inizia a fornire loro ulteriori comfort tra cui materassi, coperte, cuscini e persino un televisore mentre Giusefina comincia a dormire con lui in camera da letto. Un giorno, mentre durante una gita si trovano nella campagna del New Jersey, Gary ferma l'auto nei pressi di un'area boschiva dicendo che sarebbe un posto perfetto per nascondere il cadavere di Deborah. La notte seguente, il 22 marzo, Gary e Giusefina caricano il corpo parzialmente congelato di Deborah in un furgone e mentre Giusefina aspetta in macchina Gary lo scarica nel mezzo del boschetto. Il giorno successivo Gary le dice che bisogna trovare una sostituta per Deborah e suggerisce di uscire insieme per scegliere la vittima. Non passa molto tempo prima che la coppia individui un'altra passeggiatrice. Giusefina la conosce, si chiama Agnes Adams e per un periodo avevano lavorato insieme in uno strip club. In realtà anche Gary conosce Agnes, era stato un suo cliente. In realtà l'aveva condotta a casa sua diverse volte per consumare un rapporto consensuale e poi l'aveva sempre riportata indietro. Quella notte però Gary chiaramente ha altri piani. Dopo aver negoziato un prezzo adeguato per i suoi servizi Gary e Giusefina fanno salire Agnes in macchina e si dirigono a casa dell'uomo. Mentre Giusefina rimane in cucina Gary porta Agnes al piano di sopra affinché abbiano un rapporto. Poco dopo anche Agnes si ritrova incatenata nel seminterrato con le altre vittime. Gary si fida sempre di più di Giusefina è convinto che la ragazza sia felice di stare con lui oppure che si sia resa. È riuscito a dominarla al punto che Giusefina fa tutto ciò che lui le chiede ma in realtà la ragazza ha altri piani e aspetta pazientemente il momento giusto per agire. L'occasione per Giusefina si presenta il 24 marzo quando dopo giorni di suppliche e lusinghe convince Gary che se l'avesse lasciata andare a trovare la sua famiglia gli avrebbe portato un'altra ragazza da incatenare nel seminterrato per assortire il suo harem. Gary ansioso di allargare la sua collezione accetta a condizione che Giusefina dopo aver fatto visita ai parenti a mezzanotte conduca la nuova recluta in una stazione di servizio vicino a casa sua. Più tardi quella sera Gary lascia quindi Giusefina alla stazione di servizio e se ne va. Dopo pochi secondi dalla liberazione Giusefina corre verso l'appartamento che condivideva con il suo ragazzo un uomo di nome Vincent Nelson. Quando Vincent apre la porta si trova davanti Giusefina che si affretta a raccontargli tutto ma Vincent si chiede se per caso lei abbia perso totalmente il lume della ragione. Mentre cerca di calmarla Giusefina gli parla di come ha visto morire due ragazze sequestrate davanti ai suoi occhi e gli riferisce di aver mangiato cibo per cani. Alla fine Vincent si offre di andare a casa di Gary per affrontarlo ma Giusefina suggerisce di evitare e di chiamare la polizia. Vincent accetta e fa la chiamata da un telefono pubblico situato nelle vicinanze. Diversi minuti dopo due poliziotti li raggiungono. Ancora una volta Giusefina racconta tutto ciò che le è successo e così come Vincent anche i due agenti stentano a crederci finché Giusefina non solleva le gambe dei jeans e mostra i segni delle catene impressi sulla sua pelle. Così i poliziotti si convincono che lei non sta mentendo. La ragazza spiega che Gary la sta aspettando in una stazione di servizio vicina alla sua casa. I poliziotti si recano lì e lo individuano mentre si avvicinano all'auto e straggono la pistola. Gary viene fuori dalla macchina alzando le mani. Finalmente gli agenti lo arrestano e così dopo quattro mesi orribili il regno di terrore ideato da Gary Heidnik giunge al termine. Poco prima delle 5 del 25 marzo 1987 a casa di Gary arriva una squadra di polizia sotto la direzione del tenente della omicidi James Hansen. Gli agenti sfondano la porta d'ingresso e grazie alle indicazioni di Giusefina giungono direttamente nel seminterrato. Quando un poliziotto entra lì dentro si trova davanti due donne afroamericane addormentate su un materasso al centro della piccola stanza. Nonostante il freddo hanno addosso soltanto una coperta sottile e quando la gente si avvicina per svegliarle le prigioniere iniziano a urlare terrorizzate. Il poliziotto riesce a calmarle dicendo che è lì per liberarle. Nota che sono incatenate a un tubo che passa dal soffitto e non indossano altro che delle camicette leggere e dei calzini. Le due donne si identificano come Jacqueline Askins e Lisa Thomas. La gente quindi chiede se vi siano altre donne in casa e Lisa indica il pezzo di compensato sul pavimento su cui sono ammucchiati dei sacchetti di plastica pieni di terra. Così rimuovendo i sacchi e l'asse di compensato la gente guarda giù e vede un'altra donna senza vestiti relegata in fondo alla fossa Agnes Adams. Tutte le ragazze vengono liberate e portate al piano di sopra in attesa che arrivi l'ambulanza intanto gli agenti danno un'occhiata in casa. In cucina trovano una pentola di alluminio adagiata sul fornello e con il fondo visibilmente bruciato. Il contenuto è una sostanza giallastra e oleosa e quello è grasso umano. Sul bancone poi c'è un robot da cucina che è stato usato di recente probabilmente per preparare della carne. All'interno del forno c'è una pirofila con dentro un pezzo di osso carbonizzato molto simile a una costola umana. Nel frigorifero i poliziotti trovano un avambraccio certamente umano. Sebbene la casa ed intorni dessero l'impressione che il proprietario fosse una persona disturbata che viveva da sola percependo una pensione di invalidità la polizia scopre che in realtà Gary Heidnik è un uomo ricco che ha accumulato 550 mila dollari su un conto di investimento del mercato azionario. Le indagini continuano e Gary viene interrogato in custodia mentre la polizia tenta di ricostruire la vita e i crimini dell'individuo che la stampa sta già definendo un pazzo feroce. Il 23 aprile 1987 Gary si presenta per la prima volta a giudizio. Le imputazioni sono gravissime rapimento violenza intima e aggressione aggravata da deviazioni intime imprigionamento duplice omicidio. Le prove più schiaccianti utilizzate dall'accusa sono naturalmente le testimonianze delle ragazze rapite. Lisa convocata per prima descrive nei minimi dettagli come Gary Heidnik l'abbia incatenata picchiata e abusata. Giusefina racconta tutta la sua permanenza nella cantina dal rapimento nella Cadillac fino al giorno dell'arresto. Descrive con precisione la morte di Sandra Linsday e l'elettroshock che è stato fatale a Deborah Dudley. Ammette anche di essere stata lei a riempire d'acqua la buca e a infilare il filo in uno dei fori creati per penetrare il compensato. Ovviamente la difesa dell'assassino si aggrappa a questa deposizione per formulare un'accusa ai danni della donna sostenendo che sarebbe stata proprio lei ad aizzare Gary. Giusefina però viene difesa a spada tratta dalle testimonianze delle altre vittime. Tocca al dottor Paul Hoyer dell'ufficio medico provinciale chiudere i procedimenti preliminari fornendo la lista dei resti umani rinvenuti nella cucina dell'imputato. Due vambracci un braccio due ginocchia e due cosce un totale di 10 chilogrammi di carne tagliata con una motosega. Il 20 giugno 1988 si apre ufficialmente il processo. La via intrapresa dalla difesa dell'imputato è l'infermità mentale ma nonostante le tre testimonianze di psichiatri che giustificano lo stato mentale dell'uomo il procuratore riesce a dimostrare che Gary Heidnik è sano di mente e anche molto intelligente. Viene dunque ritenuto capace di intendere di volere e per questo può essere legalmente processato. Il 30 giugno 1988 dopo ben 16 ore di deliberazione la giuria emette il verdetto. L'imputato Gary Michael Heidnik è ritenuto colpevole di duplice omicidio di primo grado e di tutte le accuse a suo carico 18 condanne in tutto ma bastano le prime due per condannarlo alla pena di morte. L'assassino tra l'altro non mostra nessuna reazione emotiva durante la lettura del verdetto e dopo aver atteso udite bene 11 lunghi anni rinchiuso nel braccio della morte il 6 luglio 1999 alle 22 29 Gary viene giustiziato tramite iniezione letale. In seguito alla sua morte nessun familiare ne ha richiesto il corpo per potervi dare una sepoltura dignitosa. Giace pertanto nella fossa comune del carcere. Le vittime e la ex moglie avviano diverse cause per cercare di ottenere i resti del suo cospicuo patrimonio. Detto questo ho finito di parlare in questo video spero che questo video possa essere stato interessante per voi fatemi sapere se conoscevate già questa storia io l'ho trovata terribile davvero orribile e terribile tutte le storie true crime sono orribili però queste storie secondo me lo sono ancora di più quando recludi una persona la obbligi a subire così tante violenze le dai da mangiare del cibo per cani la picchi la tieni dentro un buco in cantina è tremendo io non ho altre parole per definire questo caso se non tremendo e direi che questo uomo è un essere raccapricciante ma voi che cosa ne pensate fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto Gary è diventato così a causa dei suoi genitori io non lo so ovviamente non ho trovato fonti a riguardo che parlassero di questa correlazione però io solitamente sono sempre molto affascinata dalle infanzie dei serial cioè cerco sempre di scavare un po' di più nell'infanzia piuttosto che nei crimini perché secondo me spesso nell'infanzia si trovano delle motivazioni sul perché effettivamente quella persona è diventata un serial ma nel caso di Gary io non riesco a trovare delle motivazioni così nette magari non ho trovato le fonti magari non ci sono le fonti non sono complete può capitare però sono curiosa voi che cosa ne pensate e nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.